Ciao, siamo a Rocca Imperiale nel limoneto dell'azienda di Leo in compagnia di Gaetano, Domenico e Domenico Junior. Gaetano e Domenico Senior sono tra i padri fondatori del limone di Rocca Imperiale e oggi abbiamo il piacere e l'onore anche di presentarli perché da lì partiamo con questa iniziativa che a breve arriverà in tutta Italia. Noi siamo all'interno di questa azienda di Leo dove si producono i limoni, i limoni di Rocca Imperiale, famosi oramai per la caratteristica di questo prodotto. Quindi è un limone ricco di succo, è un limone profumato ed è un limone senza semi. Insieme a Domenico Junior abbiamo deciso di lanciare questa nuova iniziativa commerciale che vede protagonista il limone di Rocca Imperiale. L'iniziativa ce la presenterà Domenico ed è un progetto che abbiamo avviato già da qualche mese con grande successo in tutta Italia e ha trovato da subito l'interesse e la curiosità e il riscontro dei nostri clienti. Domenico ci vuoi raccontare quello che stiamo facendo? Certo, quindi allora la collaborazione tra Limone che si mangia che è un sito web dove banalmente un utente ormai tecnologico si può affacciare all'acquisto quindi di un prodotto direttamente raccolto dall'albero quindi grazie all'aiuto quindi all'intervento di questa azienda di Leo che in collaborazione con noi ci aiuta quindi a far arrivare direttamente a caso del consumatore un prodotto di qualità ed eccellenza come il limone di Rocca Imperiale. Banalmente quindi qualora quindi un utente voglia quindi da Milano da qualsiasi città italiana acquistare il prodotto entrando sul sito www.limonechesimagia.it potrà scegliere quindi due modalità di acquisto o appunto un singolo acquisto acquistando un box quindi che contiene ben 9 kg di limone appena raccolto e con una spedizione gratuita che arriva banalmente in tre giorni lavorativi oppure una modalità di acquisto in abbonamento. Ogni mese arriverà un box quindi con sempre 9 kg di limone per il periodo quindi che va da novembre a luglio periodo fertile per questo prodotto. Bene quindi ci viene da dire che dalla nostra pianta alla vostra tavola il limone di Rocca Imperiale diventerà protagonista la luce il colore la bontà e la genuinità di questo territorio Rocca Imperiale a breve arriverà sulle tavole di tutti gli italiani e noi siamo felici di poter essere parte attiva di questo splendido progetto. Io ringrazio Domenico Junio ma ancora di più coloro i quali con il loro sacrificio e con il loro sudore hanno reso possibile tutto questo. Domenico e Gaetano due esempi di amore, di passione e di legame per la propria terra. Grazie e un buon anno a tutti quanti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.